Ecco quindi questa è in realtà il punto della situazione per quel che concerne il punto di vista del penale e poi adesso cercheremo anche di capire effettivamente che cosa riguarda i tesserati da vicino ma faccio un passo indietro, riparto da Max Lavia, visto anche la tua professione di avvocato tu mi dicevi giustamente non in penale ma nel civile, ma sei uno di quelli che ne sa più di tutti noi messi insieme Qualcosa mastico Che dici? Ma in relazione al coinvolgimento dei tesserati? Quello che si dice fino adesso ed è quello che possono rischiare sia Milano che Liente è che se non si riesce a provare che effettivamente ci sia stata una sorta di sudditanza, di gioco, di soggiogamento di questi signori che in qualche maniera per paura di ritorsioni, chiaramente i tesserati siano stati costretti a fare delle richieste alla società per assecondare i tifosi allora questo si rischierebbe il commissariamente perché vuol dire che la società non è in grado di sopperire a quelle che sono le minacce che gli fanno questi soggetti quindi questa è l'unica cosa che rischiano e io credo però non essendo stato adottato questo tipo di misura essendo a conoscenza delle pagine dell'ordinanza che sono circa 500 pagine dell'ordinanza di intercettazioni che vanno avanti da parecchi mesi io credo che se ci fosse già stata diciamo questo tipo di coinvolgimento e se ci fossero già le prove di una collusione vera di alcuni tesserati dell'Inter sarebbero stati dei provvedimenti quindi io credo allo Stato che non ci siano pericoli sia per il Milan che per l'Inter come non ci sono stati per la Juventus, Ilo Tempore per una cosa abbastanza... la Juventus ha tracciato una strada però ha tracciato una strada sulla denuncia non è detto che il fatto che abbia fatto la denuncia si possa esimere il fatto che non abbia commesso un reato precedente perché altrimenti tutti dicono vabbè io sono stato diciamo fino a quel momento colluso poi dopo ho denunciato e salvifica però a Torino almeno ufficialmente non esistono più queste situazioni di insomma di un po' borderline per usare un eufemismo sì però successivamente la denuncia magari vanno a vedere la partita a parte che tantissimi sono da spatti ma spero che sia la volta buona anche per il Milan e l'Inter in questo momento allora prima di andare da Fabio Verga vorrei fare un passo indietro sempre per un quadro generale di completezza per darvi tutte le informazioni necessarie anche per prendere una vostra posizione da Federico Bertone con proprio la grafica dei rispettivi articoli e comma sì perché chiaramente questa questa inchiesta di cui si stanno occupando tutti in questi ultimi giorni è un'inchiesta che esula dal calcio riguarda insomma accuse molto pesanti di associazioni a delinquere addirittura con stampo mafioso quindi qui si parla di penale se però andiamo sullo sportivo c'è un rischio da parte di Milan e Inter qualora venisse provato che hanno violato i regolamenti allora andiamo a vedere che cosa dicono i regolamenti perché poi è molto importante capire quello partiamo con l'articolo 25,1 qui parliamo di codice di giustizia sportiva non di giustizia penale noi abbiamo messo in grafica i passaggi più importanti per andare appunto a capire di che cosa stiamo parlando cosa dice l'articolo 25,1 alle società è fatto di vieto di contribuire con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente quindi in soldoni è vietato alle società dare dei biglietti con dei canali preferenziali barra con dei regali o comunque degli sconti delle agevolazioni vediamo anche l'altro comma che ci interessa l'articolo 25 sempre però il comma 10 perché anche qui c'è un altro passaggio importante ai tesserati è fatto di vieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società quindi stando al regolamento i dirigenti i giocatori gli allenatori non dovrebbero avere nessun rapporto con gli esponenti dei gruppi siccome sono uscite delle intercettazioni in questi giorni in cui invece si evince che dei rapporti ci sono bisogna capire che cosa potrebbe accadere si è parlato insomma ci sono fatte tante ipotesi c'è un precedente che è quello della Juventus nel 2017 ed è un precedente importante che potrebbe fare scuola in questo caso perché ricorderete la vicenda Last Banner nel 2017 che riguardò la curva della Juventus e il presidente Andrea Agnelli l'allora presidente Andrea Agnelli non ci furono punti di penalizzazione non ci furono nemmeno delle squalifiche ci fu una multa di 600 mila euro alla Juventus e un turno a porte chiuse per il settore della curva sud quindi non tutto lo stadio ma la curva e diciamo che questo precedente lascia pensare che insomma dovrebbe essere questo più o meno anche perché al momento nessun tesserato di Milano e Inter risulta indagato poi probabilmente verranno sentiti anche come persone informate dei fatti però negli atti delle indagini non figurano in questo momento tesserati di Inter e Milano Ecco allora io riparto da Fabio Verga proprio perché appunto Fabio ti vedevo scalpitare in merito Sì perché è una vicenda indubbiamente complessa da una parte e la scoperta dell'acqua calda dall'altra perché le curve degli stadi siano diventate negli ultimi anni ricettacolo di traffici legali vendita del proprio merchandising un po' meno legali vendita e scambio a giro di biglietti o del tutto illegali traffico di droga o altro ripeto è la scoperta dell'acqua calda chiunque abbia lavorato nel settore lo sa benissimo la normativa che Federico Bertone con precisione giornalistica ha riportato un attimo fa in grafica acquisce la confusione perché è un regolamento sportivo che non recepisce una norma dello Stato perché il decreto legge vado a memoria del 13 agosto 2019 che modifica che è quello sulla gestione degli stadi e modifica quello dell'8 agosto 2007 che conosco a memoria perché ci ho lavorato di concetto col ministero e ho fatto parte all'epoca del gruppo di lavoro che ha lavorato su questo decreto però il decreto della modifica del 2019 ad esempio in un articolo ben preciso introduce la figura di quello che viene chiamato SLO Stadium Liaison Officer prescrivendo come obbligo in capo alle società poi apriamo una parentesi metà delle società non l'hanno ancora fatto dal 2019 ad oggi ma questo è un altro discorso questo articolo prevede come obbligo in capo alle società l'istituzione di questa figura che deve essere un tesserato della società che ha come incarico quello di gestire e relazionare la questura sui rapporti con i tifosi cosa che evidentemente va in contrasto col comma 10 dell'articolo 25 di giustizia sportiva che abbiamo visto adesso perché se io tesserato mi devo adeguare al codice della giustizia sportiva non posso avere rapporti con questi tifosi ma se io vado alla norma penalistica devo addirittura avere un ufficio dedicato a questo è una contraddizione in termini pazzesca chiudo visto che abbiamo presente un avvocato di professione come Massimiliano Lavia aggiungendo che di confusione in confusione ne viene aggiunta anche dai PM di Milano titolari dell'inchiesta perché io ho sentito la dichiarazione all'Ansa del pubblico ministero il quale ha dichiarato testualmente Inter e Milan dovranno dimostrare di essere innocenti per evitare sanzioni io a ricordo dei miei studi di giurisprudenza sono caduto dalla sedia perché mi risulta che sia il pubblico ministero a dover dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato non l'imputato a dover dimostrare di essere innocente poi allo Stato non mi sembra che ci sia nessuno che in questo momento sia imputato perché debba difendersi che un pubblico ministero se ne esca con una frase del genere il mio professore di diritto privato l'avrebbe buttato fuori dall'aula secondo me bisogna vedere nell'ambito di quale domanda è stata fatta perché dico ma se dovesse essere per caso inquisito un testatore cosa dovrebbero fare no sei tu che devi dimostrare la colpevolezza no però io dalle intercettazioni lo dico poi lo sai perfettamente nel momento in cui io sei indagato tocca all'indagato dimostrare di non essere colpevole quindi probabilmente bisogna vedere anche il senso della domanda che è stata fatta perché mi sembra stanno che un pubblico ministero possa prendere una topica di questo giro ti giro la dichiarazione ansa allora sì sicuramente comunque la questione è abbastanza spinosa e sembra sempre surreale che ci troviamo nel 2024 a continuare a parlare di questi problemi che non dovrebbero essere veramente neanche più un problema tangibile bensì risolvibile ci sono degli antichi filmati degli anni 60 e 70 di San Siro dove c'erano ancora le inferiate praticamente i due anelli dove si vedeva scavalcare la gente a fine partita e fare invasione di campo fra parentesi in inferiate avevano delle sciabole non è che avevano delle siepi sopra e c'era una sola telecamera probabilmente c'è stata qualche scazzottata e non c'era la comunicazione che c'è adesso però comunque lo stadio su maggior ragione San Siro è sempre stato diciamo la cova di frustrazioni di situazioni negative di proteste e anche qualcosa di più importante soprattutto fuori dallo stadio certo che a questo punto non si trattava più di qualche schiaffone e qualche sfottò ma abbiamo passato assolutamente tutti i limiti ci sono di mezzo dei morti e soprattutto lo stadio non è più assolutamente sicuro nonostante in campo va tutto bene ma sugli spalti non c'è più magari il confronto fra le tifoserie ma addirittura le stesse per quanto riguarda Milan e Inter ci sono delle situazioni delittuose che non possono essere più assolutamente grazie Federico e attenzione perché si è aggiunto al nostro perdere di aspiti anche il direttore Luciano Amoggio buonasera è un bel colpo questo in anticipo di 5 minuti sempre sempre sei in anticipo sul tuo ritardo sul mio ritardo sì ma tu non hai trovato l'acqua che ho trovato io per strada caspita è vero mi tocca pure togliere quello che ho sopportato oggi io non ho trovato l'acqua perché io sono venuto col sottomarino il tunnel direttamente secondo te davanti a dove guido io non pioca qualcuno con l'arca è venuto ma guardate ragazzi un attimo fa fatti allora direttore buonasera si stava parlando della questione inchiesta buonasera no devo salutare buonasera buonasera Luciano dell'inchiesta Ultras e di che cosa rispettivamente Inter e Milan stiano rischiando ora tu da che parte stai? vuoi esprimerti sulla questione? io sto qui a sinistra ma scusa da che parte sto? sai come per eliminare queste cose qui cosa significherebbe? rapida rapida togliere praticamente l'autorizzazione di Stadi qualcosa che pesa sulle squadre di calcio se praticamente tu buttano un petardo e paghi 50 mila euro la responsabilità oggettiva bravo vedi ti è avvocato ci è arrivato allora queste cose qui basta togliere la responsabilità oggettiva finirebbero e non solo e non solo mettere un po' più di vigilanza della polizia nelle curve perché a me sai quante volte è capitato di dire a un poliziotto quando c'ero io adesso forse saranno cambiati ma vedi un po' guarda che sopra che succede beh chi mi paga a me per andare solo capisci? questo è il punto e quando devi mandare 100 poliziotti e ne mandi 20 e poi può succedere dei casini poi man mano man mano si fomenta di più il gruppo e diventa anche più pericoloso poi io non so quello che hanno fatto i dirigenti ma leggo che cosa potrebbero rischiare secondo me niente io che un allenatore debba debba praticamente sentire uno che gli dice di mettere un giocatore anzi di un altro ma chi li dà retta allora e invece la vicenda dei biglietti del biglietti li danno tutti biglietti li danno tutti proprio per la responsabilità oggettiva questo se praticamente la federazione dicesse attenzione da ora poi praticamente non c'è più la responsabilità oggettiva le società fossero libere di agire non darebbero più biglietti ma non dovrebbero penalizzare la federazione le società di calcio quando subiscono le invasioni quando subiscono i petardi quando subiscono i fumogeni tutte queste cose qua quindi tu elimini queste liberi la società la società si comporta in altra maniera poi dopo ci sono anche quelle che si comportano male ovviamente io su questo non c'è dubbio ma la sostanza è che tu sei schiavo di un qualcosa praticamente per evitare dei casotti che potrebbero fare i tifosi questa è una realtà l'unica cosa che chiedo dal direttore e che io penso possa essere imputata la società secondo me è questa è chiaro che la curva è sempre in ogni stadio c'è la curva quei posti sono assegnati numerali ascolta e poi continui quando io dico che i tifosi e i tifosi se non hanno piacere di vedere le partite perché la loro squadra gioca male ma vadano al cinema poi possono dire che giocano male possono dire che giocano bene possono dire di tutto ma devono star calmi questa è la verità non devono buttare fumogini sapendo che creano problemi alle società di calcio pedardi perché creano problemi e non solo multe alle società di calcio quindi le vere schiave di queste cose sono le società sì però ti muovo solo un appunto non me la muove perché non l'accetta no e poi dopo mi rispondi perché tu hai gestito la società di calcio quindi mi spieghi questa circostanza un po' strana com'è tutte le curve cioè immagino che le curve abbiano i posti numerati ormai ce le abbiamo tutti chi è che vigila sul fatto che in quella curva ci sia X non si possono vendere i biglietti ci siano sempre le stesse persone e che vorrebbe dire nessuno nessuno è lo stesso è quello che diceva prima il problema è no però questo no la tua è la domanda come dicevo prima sciocca della scoperta dell'acqua calda è lo stesso ma io dico questo è il senso di responsabilità della società ma senti lui ha detto l'acqua calda io ti ho detto sciocca è la stessa diciamo la stessa metodologia lo stesso scenario che si applica nelle manifestazioni politiche il gruppo numeroso e tendente alla violenza non può essere contrastato con la repressione immediata altrimenti scateni la guerra mi spiego se tu vai per strada ma se tu hai gli steward che controllano il seggiolino seggiolino è intestato a verga e tu non hai documento di verga questo è presto risolto perché è in una massa tale è lo stesso discorso per cui l'esempio che ti stavo facendo se tu vai per strada e insulti un poliziotto vieni fermato e arrestato se un gruppo di 2000 ultras in assetto da guerra con le aste delle bandiere che fanno da bastoni si schiera per strada e comincia a insultare i poliziotti i casi sono due o i poliziotti scatenano la guerra civile con decine di morti oppure fanno finta di niente quale delle due ipotesi è preferibile a ciascuno la sua risposta i poliziotti e l'ordine pubblico ovviamente evitano di scatenare una guerra con decine di morti allora io ti dico una cosa Fabio nel momento in cui adesso probabilmente sono cambiati i tempi ma la realtà qual è la realtà è che forse sapete qual è una colpa delle società non farsi rispettare io per esempio avevo un'abitudine cambiavo società chiamavo i capi dei tifosi perché è inutile che mi dicano che non prendono biglietti i biglietti li prendono tutti tanto per essere chiari per cui chiamavo i capi dei tifosi e gli dicevo ragazzi avete mille biglietti prestate attenzione non mi rompete perché i mille biglietti diventano zero ma io non lo dici non puoi scherzare io lo faccio davvero e ho dato anche qualche esempio a me non mi è mai capitato niente perché praticamente evidentemente mi rispettavano e sapevano che io stavo dicendo delle cose che avremmo messo in atto adesso c'è troppo lassismo o forse perché tu eri più pericoloso di loro allora effettivamente io guarda Fabio sono uno che è amante del rispetto allora sempre sempre mi cade il microfono se ti cade il microfono non si sente parlare diventa fastidio allora io dico io voglio fare la persona che ti vuole aiutare però tu devi aiutare me perché se non mi aiuti io ti tolgo il saluto e io facevo in questa maniera e a me non mi hanno mai complicato le cose ecco si parlava prima pure di responsabilità oggettiva che probabilmente in questo momento risolverebbe tante questioni ora no risolverebbe tutte le questioni ora perché non viene applicata cosa l'iter poi magari giuridico allora vogliamo dirla chiara si torna sempre sul capo sul capo sul capo del calcio il presidente federale ecco perché se qui venisse fatto un qualcosa vedete si torna sempre sugli argomenti perché la nazionale italiana praticamente gioca male perché non ci sono i giocatori che da fare undici ci sono i giocatori importanti di una squadra ben messa perché perché c'è praticamente quando tu hai ah ecco questo qui si no no ma per questo anche fonico sai che ti vedo bene in questo come fonico no 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 badante pensavo più a un badante allora quando tu praticamente hai una mentalità un po' particolare porti a termine i discorsi ma li metti alla prova li metti a prova succede praticamente niente di particolare perché tutti capiscono attenzione con questo bisogna scherzarci poco perché questo non ti minaccia ti dice una cosa e poi la fa e io ero così adesso in questo momento vedo però adesso qualcuno che l'ha fatto non possiamo fare una petizione per questa responsabilità oggettiva figliolo figliolo c'ha la scorta allora non fa il dirigente capisci no non lo fa ancora per l'amore di io ma infatti l'ho dito è 10 anni che c'ha la scorta perfetto la CEO di Roma è andata via per paura perfetto ma chi ha paura non va dalla guerra questo è il punto l'hanno anche accompagnata però la CEO di Roma si va bene l'hanno accompagnata tutto quello che vuoi la sostanza la sostanza sai qual è è perché lei insomma è stata molto limpica comunque ascolta o si sta in un posto sapendo dove si sta oppure si toglie il disturbo e ce n'andiamo c'era la signora allora no ma devo finire il discorso del presidente il presidente federale io stavo dicendo come la nazionale no mi spiego come la nazionale praticamente per esempio c'è libera circolazione della manodopera è vero ma c'è anche la possibilità di un presidente di dire tu vuoi prendere 20 giocatori prendili però poi di questi qui giocano 5 il resto vanno parte in tribuna e parte in panchina e allora a questo punto eviti ai dirigenti di spendere male perché voi guardate il campionato da più bello che era adesso è diventato il terzo il quarto e nessuno fa più le lotte per comprare i diritti ma anzi si alleano per pagarli meno questo è quello che bisogna guardare nella vita ci sarà una ragione rispondendo adesso però io non posso parlare così adesso io più che della responsabilità oggettiva mi rifarei sono sempre un po' vintage alla signora Thatcher te la ricordi Maggie per gli amici che ha risolto il problema nel modo più semplice hai preso chi dovevi prendere diciamo che li hai messi nelle condizioni di non di non poter più delinquere di non poter più combinare certi certi guai e metterti in queste situazioni e hai risolto il problema degli hooligans degli ultra eccetera allora assolutamente assolutamente e vedevo che c'era anche Berger che voleva aggiungere una cosa a quanto stesse dicendo Furio sì in realtà è troppo complicato no è un po' semplicistico perché in realtà la riforma Thatcher legata allo sport sul calcio inglese ha semplicemente spostato il problema fuori dagli stadi ovvero come sta cominciando ad accadere anche in Italia purtroppo e non è una bella cosa l'abbiamo appena visto a Genova prima del derby dove gli scontri non è che non ci sono stati ci sono stati dieci ore prima della partita da un'altra parte della città ma era da tre mesi tu da che partirei io ero impegnato a mirarlo era da quattro mesi che si sapeva che sarebbe successo questa cosa ma anche in Inghilterra si dava appuntamento lo sanno sì ho capito ma prevenire è sempre meglio che curare e la polizia le forze dell'ordine dell'esercito in Inghilterra non l'hanno prevenuto l'hanno semplicemente spostato si picchiano da qualche altra parte perché perché con gli stadi privati di proprietà delle società le società sono libere invece che avere il biglietto popolare a 20 o 30 euro come in Italia il biglietto più economico per entrare a Stanford Bridge costa l'equivalente di 105 euro per cui tanta gente non si può più neanche avvicinare allo stadio si picchia fuori non è una soluzione Fabio però sai che c'è resta a vista d'occhio il fatto che il pubblico sta a ridosso del campo potrebbe entrare in Italia si fanno una cosa del genere entrano ma non è vero Udine è così Udine anche a Torino non succede ma anche a San Siro nella maggior parte dei casi hanno questione di abitudine però può darsi pure che sia questione di abitudine ma più pericolosa in Italia in questo momento vedendo scusate ma vedendo quello che succede in curva ma voi pensate che ci sia solo calcio in curva no non c'è calcio c'è tutto il resto ormai è oggettivo che il calcio non c'entra niente proprio il calcio è solamente uno strumento Inter che dopo il Monza si è un po' riscattato Berga ma l'Inter ha fatto una buonissima partita contro una squadra oggettivamente inferiore pur essendo una partita di Champions League perché evidentemente non è un avversario del primo livello poi quelle partite le devi vincere giustamente tanto che effettivamente Inzaghi ha fatto turnover a rovescio cioè invece che fare turnover in campionato per essere al meglio in Champions League ha fatto turnover in Champions League è costella rossa però 4-0 è riuscito a vincere tranquillamente una partita giocando con Arnautovic titolare che dimostra quanto l'Inter fosse superiore all'altra squadra Fabio e qui c'è da fare un'osservazione la Coppa dei Campioni dove ci stanno squadre che sostanzialmente possono perdere 4-5 ma anche 9-0 è una forma ma quello c'è sempre stato Luciano mi ricordo il Coppa dei Campioni con la Valletta di Malta quando la biccavi al primo turno ma c'era una squadra ma volevo solo dire che queste cose qui sono formalizzate anche con la volontà delle squadre perché più diritti televisivi praticamente più premi hanno quindi il problema di fondo è che si guarda le partite e si dice ma ci potrebbe stare questa squadra qual è quella che ha perso 9-2 adesso mi ricordo la Dinamo Zagabria la Dinamo Zagabria però però poi Bayern ha perso 1-0 fa parte di un contesto che praticamente porta diritti e premi questo è il punto per cui si critica si critica ma la sostanza chi la dà la volontà delle squadre invece in questa partita comunque i primi 20 minuti i primi 25 minuti l'Inter non è sembrato ancora l'Inter solida in difesa dell'anno scorso e comunque il problema che sta prendendo tanti gol altra grande occasione per la Roma sinistro di Dovbic Peterson in calcio d'angolo insomma sono ripetitivo ma da quando sono entrati i titolari la partita è cambiata adesso però rivedendolo c'era un fuorigioco clamoroso se non è stato dato ci sarà calcio d'angolo perché a questo punto il VAR non può più intervenire per cui vediamo intanto ci fanno rivedere lo splendido sinistro di Pellegrini dalla distanza con la palla che va a sbattere sulla traversa è stato dato fuorigioco quindi non conta questa azione di Dovbic che effettivamente fuorigioco c'era ecco per esempio voi guardate per fare un discorso fuoritema questo c'entra avanti Dovbic non andrebbe bene a Tiago Motta non andrebbe bene a Tiago Motta perché questo qui si fa marcare la stessa cosa e la stessa cosa a maggior ragione è quella di Vlaovic attenzione quindi vuole dire dare un giocatore a un allenatore per esempio io ritorno sul discorso di Coppemainers Gasperini lo faceva giocare di tutto in un'altra maniera è una mezzala che scorazzava il campo qui invece è un uomo che sta vicino a chi praticamente e non è da escludere attenzione che questo giocatore in mancanza di un attaccante posso giocare anche al posto di Vlaovic non è neppure da escludere ma la vede la porta secondo te? come no lui la vede in una maniera un po' particolare deve scorazzare deve scorazzare perché se si ferma praticamente lui ha nei piedi sicuramente l'intelligenza per portare avanti la palla e condurla su questo non c'è dubbio dopodiché poi vede abbastanza bene la porta se invece sta fermo di fronte o dietro a Vlaovic diventa il problema di Vlaovic e di lui e spesso e volentieri in queste partite lui ha fatto il sottopalla e nel frattempo sono quattro minuti di recupero in cui la Roma tenterà il tutto per tutto ma è già passato un minuto Federico il Sardegna il Sardegna con un cross che poteva sicuramente fare molto meglio attraversato tutta l'area di rigore ora Anghelinio vada di bala il pallone per Pellegrini Cristante prova a farla filtrare ma c'è il muro giallo-nero dell'Elfsburg a respingere ancora Roma però Selic alza la testa decide di andare dal Sardegna sarà lui a provare il cross oppure a tornare indietro sceglie la seconda opzione palla a Selic di bala di cala Roma adesso cerca di velocizzare il giro-palla è l'unico modo per spezzare un po' gli schemi degli svedesi si va sulla sinistra ancora da Anghelinio che prova questo cross a cercare il Sharawi e il Sharawi qui fa un colpo di testa che non è niente non è un tiro ma non è neanche una sponda per i compagni e Peterson blocca il pallone se ne sono andati due minuti dei quattro totali di recupero a questo punto insomma ci vuole veramente un episodio importante per non perdere questa partita finale invece da Firenze la Fiorentina batte i The New Saints 2-0 i gol di Adli e Ken tutte e due nel secondo tempo quindi la Fiorentina i tre punti li ha ottenuti sono passati due minuti di gioco e sempre 1-0 Elfsburg contro la Roma ma adesso io ecco vi dico quando sostengo che in una società di calcio ci vuole il sostegno per l'allenatore di un dirigente che capisca di calcio ma in questo contesto qui si cambia il volto della partita con dei giocatori da prima squadra che praticamente se ne sono stati in panchina quasi tutta la partita e poi si va a cercare quattro minuti finali cambiali prima no? se ci tieni a tentare di vincere se poi dopo praticamente succede quello che sta succedendo e la prendi con calma però Luciano allenatore ma questo c'è sempre però però Luciano allenatore vai a giocare con l'Esvord con tutto il rispetto in Svezia cioè anche se cambi 5-11 nella Roma uno pensa che forse ma se al 60esimo ma ora gli spiego un'altra cosa se al 60esimo praticamente tu vedi che non riesci ma perché devi aspettare l'80esimo ma è meglio partire con i buoni e poi toglierli oppure fai come la Fiorentina che era in difficoltà era 0-0 all'intervallo contro una squadra di dilettanti i cambi li ha fatti all'intervallo ma scusate ma io credo che sia una legge internazionale a meno di un miracolo questa partita la perde e perdere nel girone di Europa League contro una squadra come l'Elsburg è un grosso passo falso posso pensare che in allenatore faccio questo ma non pensare non faticare un allenatore può fare ma fatevi sentire Max Laria può fare il ragionamento un allenatore per dire io questi ragazzi ci credo io negli spogliatori gli ho detto io sono convinto che voi potete farci lo stesso quindi gli dà fiducia poi vede che non ce la fanno vabbè però è una responsabilizzazione che tu dai al giocatore cambia l'intervallo ma hai visto che nel primo tempo sei sotto nell'intervallo tu gli dici vabbè io credo che possiamo farci lo stesso senza aver fettura perché altrimenti l'autostima se la perdono il risultato dice che hai sbagliato non ti preoccupare il risultato dice che hai sbagliato così l'autostima però gliela fai perdere ma non è un tema di autostima le squadre di calcio non vivono sull'autostima vivono sui risultati finale di partita vince l'Elzburg 1-0 esulta Baidu l'autore del gol su rigore figuraccia per la Roma non dimentichiamo che tra l'altro alla prima giornata la Roma aveva pareggiato con la Roma ha un punto dopo due giornate di Europa League sinceramente la Roma per l'organico che ha è una delle squadre che deve andare agli ottavi senza playoff la formula è la stessa della Champions con un punto in due partite insomma il cammino si mette in salita la Lazio per esempio ne ha fatti già sei di punti non è sicuramente un bel risultato e una bella serata per la Roma se vale e vale perché la formula è lo stessa il discorso che facciamo prima per la Champions League la Roma adesso per arrivare ai 16 punti necessari gli mancano 15 punti in 6 partite quindi deve vincere 5 partite comincia a non essere più così semplice il rischio è poi la Roma ha sicuramente le caratteristiche per andare avanti passando almeno dai playoff però come ci diceva Federico un attimo fa è una squadra che per organico dovrebbe puntare solo per completare il discorso stavo controllando il calendario della Roma la Roma avrà la Dinamo Kiev in casa ed è una partita che sicuramente può vincere poi va in Belgio contro l'Union St-Gilloise e non è una gara facile poi va a Londra col Tottenham ed è una gara decisamente difficile poi avrà il Braga poi la Z-Alkmar in Olanda e poi l'Eintracht di Francoforte cioè il calendario della Roma in Europa League è difficile non è un calendario semplice che ci hai detto forse erano più facili le prime due dove ha fatto un punto l'Atletic Bilbao è una partita complicata in particolare è complicata la partita con l'Union St-Gilloise perché bisogna capire prima dove diavolo è e poi dopo è gemellata con Gazzaccia e ti risponderà sapete il problema della Roma dove sta? c'è un centrocampo lento in Pellegrini Cristante eccetera e c'è un attaccante che è marcabile quindi l'attaccante che non viene lanciato nella maniera giusta praticamente è marcato facilmente perché i centrocampisti accominciati da Pellegrini vanno a tre all'ora questo è il punto oltre a un attaccante che lascia qualche dubbio perché a me più di uno me ne lascia Dobbic ha 27 anni l'anno scorso per carità è stato capocannoniere della Liga mica roba da poco con il Girona neanche con il Real Madrid e il Barcellona quindi tanto di cappello però un anno gli anni precedenti era un giocatore semisconosciuto quasi che ha fatto la sua carriera tra l'Ucraina che è la sua patria natale era da rimarca non è un giocatore che di improvviso ha fatto un anno buono poi poverino magari è l'inizio di una carriera strepitosa Luca Toni ha cominciato cioè è diventato Luca Toni che era 28 anni lui ne ha 27 però il sospetto che abbia avuto l'anno di fortuna in cui gli è andato tutto bene e che sia un giocatore di livello mediocre rimane abbastanza forte E allora Federico cosa è mancata a questa Roma in campo i titolari veramente questa è la risposta Secondo me sì quando ne cambi 5-6 insieme vai a toccare degli equilibri tra l'altro non è che la Roma stia vivendo un grande momento abbiamo visto domenica Roma-Venezia la Roma l'ha vinta ma ha fatto una fatica pazzesca a vincere quella partita quindi secondo me in questo momento considerando che domenica c'è l'ultima partita e poi c'è la sosta io fossi Iuric toccherei il meno possibile però l'allenatore è lui lui li vede i giocatori tutti i giorni quindi sicuramente ne sa più di me Di Bala non stava bene questo va detto Di Bala non stava bene quindi non l'ha rischiato perché aveva paura che potesse farsi qualcosa togliere sia Dovbic che Pellegrini insieme però è tanto anche perché i sostituti in questo momento sono Sule e Shomurodov la qualità proprio crolla cioè non è che dici rimangoli lì è un grosso passo indietro comunque volevo rispondere a Verga perché sono andato a vedere ma non avevo dubbio l'Union Saint-Gilles-Loire ha sede nel comune di Saint-Gilles che è nell'area metropolitana di Bruxelles per cui diciamo che è una squadra di Bruxelles allarghiamo un po' guardo il giaro praticamente un sesto semplice bravo bravo sì sì rispetto a martedì contro la Stella Rossa sarà una formazione completamente diversa diciamo che sarà l'Inter tipo poi l'Inter ha una rosa molto ampia per cui può permettersi anche di fare turn over però vedete intanto al centro della difesa torna Cerbi mentre invece contro la Stella Rossa aveva giocato De Vrij centrocampo Darmian e Frattesi prenderanno il posto di Dumfries e Zielinski Di Marco torna a titolare al posto di Carlos Augusto davanti cambia interamente la coppia con la Stella Rossa avevano giocato Taremi Arnautovic dove sabato sera Turam e Lautaro quindi diciamo che l'Inter martedì ha fatto l'all-in cioè è riuscito a vincere ma facendo anche riposare sei titolari che non è una cosa che possono fare tutti l'abbiamo visto stasera con la Roma Assolutamente sì allora io riparto anche dal direttore Luciano Maggi Luciano abbiamo visto un Inter Dica Dica abbiamo visto un Inter grandissimo spolvero contro appunto martedì la Stella Rossa in Champions 4-0 ok però era una scuola abbordabile il Torino secondo te vista anche la sconfitta che ha subito contro la Lazio e in fase di Down sarà abbordabile per la squadra di Inzaghi che comunque decide di schierare i titolari allora il Torino io l'ho visto due o tre volte mi sembra una squadra abbastanza quadrata con un giocatore interessante Adams che stranamente non parte mai titolare dal primo minuto ha fatto un gran gol ma è questo qui è un giocatore che è un giocatore imprevedibile anche per se stesso anche coppa di testa con i piedi buoni quindi non però non parte titolare con la Lazio ha avuto un momento di quelli che praticamente le squadre subiscono cioè partono di rincorsa e poi hanno un momentino di rilassamento e questo sapete da che cosa dipende dipende dal fatto che della preparazione che fa l'allenatore io credo che Vanoli sia stato abbastanza intelligente da fare una preparazione leggera perché le preparazioni pesanti sono quelle che fermano le gambe dei giocatori per tre o quattro settimane anche di più non riescono a correre come vorrebbero quella invece leggera fatta fuori dalle palestre è un qualcosa che ti dà subito la forma ma ti dura poco poi devi fare i richiami e io ho la sensazione che il Torino abbia fatto la preparazione per affrontare subito le avversari e fare più punti possibili questa è la sensazione mia dovuta da un rilassamento che ho visto per esempio nell'ultima partita con la Lazio correva molto di più la Lazio affrontava con caratteristiche proprio di riappropriarsi del pallone quando lo perdevano i giocatori laziali era tutto un discorso diverso adesso può darsi pure che sia una sensazione e c'è la prova del 9 quella con l'Inter è certamente una squadra da rispettare il Torino su questo non c'è dubbio quindi caro Max Lavia è vero c'è il turnover ma in questo caso proprio per non sottovalutare questo avversario anche perché poi abbiamo visto comunque anche il Monza mettere in difficoltà l'Inter quindi anche l'Inter non sottovaluta le big le minori scusate il fatto che il turnover l'abbia fatto in Champions e non in campionato mi fa propendere circa il fatto che insomma inzaghi e l'Inter vogliono puntare più allo scudetto che magari alla Coppa però questa è la mia impressione soldi veri e ti prendi con l'accento questa è la mia impressione però vabbè questo lo penso io poi per quanto riguarda il Torino sì è una buona squadra non ne sappiamo qualcosa noi che abbiamo affrontato il Torino in casa però poi alla fine pareggio però io credo che l'Inter in questo momento sia più forte anche se qualche problemino in difesa quest'anno lo sta dimostrando in più rispetto agli anni scorsi un dato interessante caro Furio è che rispetto all'anno scorso quindi per quanto riguarda queste prime sei partite di campionato i titolari dell'Inter hanno un minutaggio minore lo avresti detto è una strategia di gioco di inzaghi perché appunto magari questa in realtà punta di più alla Champions sì devi puntare alla Champions tanto uno scudetto in più uno scudetto in meno però ti prego Furio correggila sono stupidaggini queste qui è un dato interessante ma no ma una società di calcio un'azienda un allenatore una squadra di calcio puntano a tutte le manifestazioni in cui sono impegnati ma se devi scegliere quest'anno non scegli certamente ai primi di ottobre io credo che tu adesso devi vedere come vanno le cose poi a seguire potresti anche fare una scelta ma inizialmente ma quale scelta fare il numero più interessante di questioni economiche effettivamente tu a fare il turnover in Champions è più pericoloso è una cosa ragionata però lo dovete capire perché piano piano poi entra nel clima perché se la rossa segna non lo so se la minonna valerosa era in carriera il numero più importante da guardare a mio parere è un altro cioè il fatto che l'Inter l'anno scorso ha subito in campionato 22 gol in 38 partite poi io non me lo ricordo a memoria servirebbe il nostro esperto interologo Michele Borrelli tu chiedi e ti sei dato Michele Borrelli in regia non è a parte non mi ricordo esattamente ma sono praticamente certo che alcuni di questi 22 gol subiti in 38 partite sono arrivati a Scudetto già vinto mi viene in mente la sconfitta con Sassuolo dopo aver già vinto lo Scudetto quindi in realtà durante le 38 partite di campionato l'Inter ha subito più o meno un gol ogni due partite perché 38 su 22 calcolando che alcuni gol in più sono arrivati a campionato già vinto vuol dire che finché era in lotta per il campionato subiva mediamente un gol ogni due partite cosa nettamente diversa quest'anno quest'anno ne ha subiti 7 in 4 cioè ha subito più di un gol a partita 7 gol in 6 partite e in campionato è un dato clamoroso per quanto riguarda l'inversione di tendenza in negativo però c'è un fatto importante questa viene a Genova e due errori madornali uno di Bisse che è l'anno del portiere l'anno scorso non l'intero ho capito ma possono capitare in qualsiasi campionato allora la conclusione che voglio arrivare è l'inter mi sembra ancora la più attrezzata e a lungo a lungo andare se si mette in movimento e va a rodarsi sicuramente è la più attrezzata questo inizio di campionato ha messo in mostra degli errori che probabilmente anzi sicuramente sono inconsci di rilassamento di deconcentrazione inconsci non è che vai in campo dicendo oh chi se ne frega dalla partita però inconsciamente c'è stato questa pancia piena diciamo dalla cavalcata dell'anno scorso che ha portato a questi errori individuali adesso partite come quella di Manchester o partite come la vittoria comoda con tanto turno e con la stella rossa potrebbero indicare che l'inter è tornata in carreggiata e se è tornata in carreggiata è ancora più ancora che la più forte quella che gioca meglio amalgamata meglio e quella che fa vedere il gioco più bello da vedere vorrei concludere la parentesi riguardante i colori nero azzurri sempre con te caro Fabio Verga perché tu prima mi hai citato Arnautovic dicendo Arnautovic si marca da sole eccetera oggi sulla Gazza c'era un bel articolino dedicato a lui con questo titolo spirito da guerriero e legame col gruppo così Mark è rinato allora legame col gruppo una frecciatina direttore ma guarda che in realtà questo titolo dice quello che dico io perché gli aspetti positivi per carità ma poi non è che io ce l'ho con Arnautovic è che se in un articolo di giornale gli aspetti positivi che metti in mostra di un giocatore sono spirito da guerriero e legame col gruppo spirito da guerriero e legame col gruppo vuol dire che è uno che non segna neanche se non è un'altra opinione su questo qui dica un titolo del genere caccere subito l'articolista no i titoli non li fa chi scrive l'articolista no no ma il titolista però non li fa ma li suggerisce spesso e volentieri sui giornali fanno così quindi sarebbe da cacciare sarebbe da cacciare è più quello che ha fatto il titolo ogni tanto anche lui dà qualsiasi suggerimento ogni tanto quando si parla di Inter ragazzi subito il paragone viene da fare ma no guarda adesso ti dico una cosa si sente parlare tante bestemmi si sentono dire voi avete visto la formazione dell'Inter si paragona adesso si è frattesi che gioca si paragona e si mette in campo il discorso che frattesi sostituisce Barella Barella che è il primo difensore praticamente dell'Inter che ricollega il gruppo all'attacco frattesi un attaccante aggiunto e questo invece è una mezzala che sostanzialmente si insinua nelle linee ed è bravo ad andare in porta quindi è tutto il contrario per cui si fanno dei discorsi i giornalisti quando parlano bisogna essere attenti perché a seconda della partita modificano praticamente lo stato di essere di un giocatore frattesi non sarà mai Barella frattesi sarà un Mkhitaryan se vogliamo di quelli svelti che si insinuano ma insieme non possono giocare? possono giocare chi l'ha detto conosce no 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 ma io parlo come caratteristiche per far giocare frattesi di rite nei formi Mkhitaryan perché perché si gioca in undici però fino a un po' di tempo fa era sempre il sostituto di Barella la sostanza di ora che dicono che il Barella della situazione frattesi è tutto tranne il Barella no no questo no però in Zaghi vede come il sostituto lascia stare con caratteristiche diverse cioè se lui toglie Barella mette frattesi mette frattesi ma non è mica detto che ci indovini sempre no infatti